Ritorna dopo un anno di stop forzato a causa dell'emergenza Covid, la Dolomiti Rescue Race, il raduno internazionale del soccorso alpino e speleologico che si tiene a pieve di cadore nel primo fine settimana di ottobre. A pochi giorni dall'evento, in scena venerdì 1 e sabato 2, sono già 61 le squadre iscritte provenienti un po' da tutta Europa e non solo, con oltre 240 componenti del soccorso alpino pronti a cimentarsi su 17 chilometri di percorso e 2200 metri di dislivello, con prove tecniche e di resistenza. Una manifestazione che vuole essere occasione di addestramento ma anche di ritrovo per i volontari. Siamo qui per svolgere funzioni del soccorso alpino, quindi siamo a disposizione della comunità per fare il soccorso alpino. In questo caso anche di unire le squadre anche estere per una situazione conviviale di festa insieme a loro, insieme anche alle squadre estere e le squadre scossolpine di tutta Italia. Quella del 2021 è la decima edizione del raduno, una manifestazione che di anno in anno cresce sempre più. È un incontro particolare nato in cadore e riscoperto poi come unica manifestazione di questo genere in tutta Europa, per cui siamo molto fieri e contenti di poterla organizzare. La partenza della gara vera e propria è prevista sabato alle ore 9 dalla località di Praccia dell'Anna. L'arrivo delle prime squadre in piazza Tiziano è atteso per le 11. Sarà dunque possibile seguire in diretta tutta la gara grazie al maxischermo allestito per l'occasione. Li invito a partecipare, io spero che siano più degli anni scorsi, a partecipare in piazza Tiziano per vedere tutta la gara sullo schermo grande.